E buon pomeriggio e ben ritrovati per una nuova puntata con il magazine dedicato alla palla tamburello. Come sempre al mio fianco Flavio Ubiali, il vicepresidente della federazione. Buon pomeriggio Flavio. Ciao Chiara, buon pomeriggio a te. Allora, oggi è una puntata speciale. Speciale perché? Ce lo dici tu? Speciale perché vorremmo fare un brindisi virtuale, con te Chiara, perché oggi è la cinquantesima puntata. Un grande traguardo per la nostra federazione perché è stato comunque l'inizio, la svolta di un qualcosa che per la federazione era importante, quindi mettersi sul grande pubblico, sul grande schermo. È stato l'inizio probabilmente anche di tante altre attività, è stato quindi la partenza. Quindi oggi veramente per noi è un giorno importante e oltre a blindare con te vorrei ricordare comunque Paolo Pometto che è chi ci aiuta, il giornalista che ci aiuta e quindi che scrive con me le puntate. Quindi un ringraziamento particolare anche a Paolo. E poi abbiamo anche un ospite. L'ospite oggi è Manuel Festi, nell'ambito tamburlistico. Lo conoscono tutti. Lo conoscono tutti, è qui in forma di rappresentante come consigliere, è un consigliere federale, però è qui in veste di rappresentante dei giocatori. Ricordiamo oltre che comunque è detentore del titolo italiano della massima serie con il Pasino Castellaro a squadra mantovana. Quindi per oggi mi sembra giusto. Sì, abbiamo tanto di cui parlare. Quindi sia per quanto riguarda il lato della federazione, poi a questo punto ti sfrutterò anche dal punto di vista del giocatore. Partiamo però dalla federazione, come ricordava giustamente Flavio sei consigliere federale, quindi io ti chiedo, essendo poi rappresentante dei giocatori, quali sono gli obiettivi che ti sei posto. Ma sicuramente gli obiettivi miei sono quello di fare portavoce tra i giocatori e la federazione, di portare le problematiche che riscontrano i giocatori, di portarle in consiglio e poi di portare la mia esperienza avuta sul campo in questi anni, visto che dal 2004 sono nella massima serie, però gioco da tamburello da quando ero piccolissimo praticamente. E niente, adesso cercheremo anche con la federazione di riuscire a integrare i giovani, più giovani, a portare i più giovani nel tamburello e cercando di... Per far avvicinarli anche a questo sport e tra poco approfondiremo anche questo argomento perché anche sono curiosa poi di sapere la preparazione anche verso una gara. Quello di Manu è sicuramente non è un compito facile perché comunque deve portare, lui essendo comunque appunto un giocatore, uno dei massimi titolati, portare comunque in consiglio federale le proposte di amici, al di là anche di giocatori o atleti, perché comunque nel nostro campo si conosce un po' tutti i Manuel, quindi penso veramente che per te a volte sia veramente difficile portare le cose, anche tu mai non pensi o sia contrario ad alcune decisioni. Allora devi fare del bene per la federazione perché sei nella federazione, devi portare avanti il lavoro della federazione, però devi anche ascoltare i pareri contrari dei giocatori e cercare di mediare il tutto. Ecco, essere proprio a metà tra federazione e giocatori. E a proposito diciamo delle novità che sono state introdotte in questo 2022, è stato introdotto anche il premio di miglior giocatore e miglior giocatrice. Che cosa ne pensi a riguardo? Ma è una bella cosa che ha fatto la federazione perché secondo me può essere uno stimolo sia per i giovani che per i meno giovani a dare quel qualcosa in più in campo per riuscire anche a prendere questo premio, visto che anche in altri sport c'è un riconoscimento che poi alla fine dell'anno può essere gratificante, essere riconosciuto come miglior giocatore o essere nel miglior quintetto finale. Certo, è uno stimolo in più anche per coloro che scendono in campo. Abbiamo detto che ti avrei sfruttato anche dal punto di vista del giocatore, io sono curiosa di sapere che come in un certo senso si svolge la preparazione, cioè quando c'è un match tutta la settimana che precede questa partita, il giocatore della palla Tamburello e in generale poi la squadra, quindi sia a livello del singolo sia a livello della squadra, come si avvicina alla gara? Ma allora nel Tamburello non essendo uno sport professionistico, la settimana è sempre la settimana lavorativa, perciò ognuno va al suo lavoro e va a lavorare, però si cerca di inserire uno o due allenamenti e due allenamenti e una vita regolare, insomma, senza... 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 Che anche noi comunque abbiamo i nostri personaggi un po' particolari, un po' estrosi, un po'... Senza che si fa sono le righe, però diciamo, ma è normale, è la normalità, poi come diceva appunto Manuel, il fatto che sia uno sport dove non c'è il professionismo, quindi è normale che in base un po' anche alle necessità e come sono state strutturate le formazioni, si poi si... é un'argomentazione che si collabora proprio tra la società e gli stessi giocatori, si cerca di amalgamare le cose per poter dare un significato comunque ovvio al campionato, perché le società mettono a disposizione un discorso economico non indifferente quindi la responsabilità degli stessi giocatori però vedo che comunque questa cosa rispecchia l'andamento dei nostri campionati Sul discorso della preparazione atletica? La preparazione atletica di solito si comincia in inverno, due mesi prima del campionato per poi proseguire durante l'anno con dei richiami prima di certe manifestazioni prima della Coppa Italia ad agosto, prima della fine del campionato è una preparazione che viene fatta da un preparatore o dalla stessa allenatore e comporta un lavoro fisico, un lavoro di palestra è una bella preparazione per tutto il corpo perché nel tamburello si usa la parte bassa del corpo Vediamo anche dalle immagini, poi sono scambi spesso lunghi quindi comunque c'è bisogno di tante componenti È un gesto tecnico atletico non indifferente a volte magari chi non conosce la palla tamburella sembra che ci siano degli staticismi dei giocatori ma è comunque un continuo movimento avanti e indietro è veramente dispendioso a livello di fatica Volevo chiedere a Manuel perché vedo che alcune società hanno inserito anche il mental coach ultimamente proprio per aiutare magari i giocatori a una concentrazione o comunque a essere seguiti quindi vediamo proprio uno sviluppo importante nell'area tecnica delle società Sicuramente, sicuramente che per il mental coach può servire per certi giocatori che magari non riescono a tenere la concentrazione o che si demoralizzano per dei palle sbagliati Serve anche a loro e sicuramente è uno sviluppo in più, un passo in più per il tamburello per cercare di farlo crescere ancora di più Per tenere anche la calma nei momenti in cui si va a perdere magari quei punti importanti Vogliamo ricordare che comunque l'attività della palla tamburello inizia comunque con la preparazione i primi di gennaio e si fa fino dopo ottobre per quanto riguarda il campionato open A livello di energie A livello quindi molto dispendioso e alcuni atleti fanno sia l'open che l'indo quindi fanno le due discipline quindi diventa veramente un'annata lunga quindi la preparazione tecnica all'inizio la preparazione fisica all'inizio del campionato è importante e come diciamo in alcuni proprio anche il fatto di mantenere la concentrazione durante tutto questo periodo quindi di inserire il mental coach Assolutamente quindi abbiamo parlato della preparazione a livello di gioco della preparazione atletica del mental coach e adesso vado ancora più nello specifico e entro nel ruolo del giocatore di Manuel il giocatore di Manuel è un giocatore in mezzo volo così io ti chiedo dato che qui insomma Sport Italia siamo un po' la casa del calcio mercato del calcio quindi io ti chiedo questo tipo di ruolo quindi il mezzo volo può essere paragonato non so ti faccio un esempio a un giocatore come un numero 10 nel calcio quindi un giocatore, un fantasista uno che comunque crea l'azione crea quella giocata vincente il più delle volte si si può essere bellissimo paragonato al 10 del calcio anche perché il mezzo volo è quello che ti detta i tempi delle giocate è quello che ti risolve il punto o che fa arrivare la palla facile ai due terzini davanti dopo è sempre aiutato dalla costruzione del gioco a partire dai fondocampisti perché senza i fondocampisti che riescono a fare un gioco per il tuo mezzo volo qui volevo contraddirti un attimo secondo me il 10 nella palta Murello forse male più il fondocampista che è quello che non so io il fondocampista lo vedo più un regista basso diciamo un pirlo diciamo c'è un numero 10 vedo più il mezzo volo come l'attacco cioè quello che deve segnare quello che conclude il punto quello che ha quel tiro forte cioè quindi vedo più scusami se mi permetto perché confrontarmi poi con un atleta di un certo spessore che vedo mi fa però dico però dal di fuori vedo più magari un fondocampista che è quello che detta i tempi cioè che ti fa che ti crea il gioco appunto per finalizzarlo che costruisce proprio l'azione che costruisce il gioco per poi finalizzarlo il mezzo volo che poi lo finisce come il pirlo che dà il pallone all'attaccante l'attaccante poi alla fine deve far gol quindi ecco non lo so scusami se no 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 poi sentiremo anche i telespettatori i telespettatori vedremo magari poi i commenti i vari commenti sì gli chiediamo ai nostri telespettatori un'ultima domanda se dovessi dare un consiglio a tutti i giovani che si vogliono avvicinare a questo sport che consiglio gli daresti? il consiglio di avvicinarsi perché è uno sport bello piacevole di squadra dove si sta insieme si fa gruppo io ho sempre giocato in squadra dove siamo sempre andati d'accordo perciò io ecco queste qua io io consiglio a tutti perché veramente è dinamico cioè si non si sta mai fermi nel tamburello perciò non è non si si annoia ecco e poi tante discipline comunque dall'open all'indola al bice ricordiamo anche il muro che è iniziato il campionato quindi anche la disciplina al muro diciamo che comunque è un uno quando comunque impara a giocare a tamburello deve essere è un atleta completo ripeto perché ci sono tanti il gesto tecnico è veramente è veramente importante quando uno dice che sa giocare a tamburello diventa la base per essere capace di dire essere capace di giocare anche tanti altri sport chiaro chiaro metti le basi per poi proiettarti anche verso altri sport oppure ti specializzi o se no beh chiaro nel senso che poi tanti approvano l'approccio magari nel tennis nel paddle però penso che sia molto più difficile per uno che gioca a paddle giocare a tamburello io invece vedo la tritta dalla palla a tamburello che gli diventa facile giocare comunque a paddle o comunque a tennis cosa che invece al contrario la vedo molto difficile e anche qui possiamo aprire anche un sondaggio sondaggio anche qui se è più facile imparare oggi ci facciamo odiare a questo punto Flavio ti direi di andare a vedere in grafica quelli che sono stati i risultati della terza giornata partiamo dalla serie A open maschile così vediamo prima i risultati e poi la classifica questo è il quadro leggiamo velocemente tutti i risultati quindi l'Arcena ha battuto 6-1-6-0 il Fontigo 6-3-6-2 il risultato a favore della Cavarianese Passino Castellaro ha vinto 6-1-6-0 sulla Cassa Rurale Tuenno poi 4-6-6-2-8-1 Sabionara vince sul Canemorino 6-2-6-4 a favore del Solferino e poi campagna si impone per 6-1-6-2 contro Virtus Guidizzolo questi sono i risultati vediamo allora anche la classifica aggiornata appunto a quelli che sono stati poi questi risultati chiaramente siamo solo alla terza giornata Flavio quindi è ancora presto diciamo però vediamo che comunque poi qui mi faccio aiutare visto che voglio farmi perdonare da Manuel voglio farmi dare anche il suo contributo vedo comunque la classifica già divisa in tre tronconi cioè qui si è attrezzata comunque per un obiettivo importante le vediamo già comunque nell'altra classifica quindi Solferino insomma Campagna l'Arcena il Pasino Castellaro le vediamo comunque in una posizione già per dire sanno dove vogliono l'obiettivo che vogliono e si sono posizionate e quindi niente quindi la classifica diciamo che delinea già quindi come ha detto le varie posizioni e non so Manuel visto che tu sei in campo se vuoi approfondire qualcosa di più la classifica rispecchia io penso che un cremolino che si trova in basso la classifica riesca poi arrivare nelle prime posizioni anche perché nelle prime due partite ha preso il Castellaro e il insomma campagna due pretendenti allo scudetto però penso che il cremolino possa fare un bel campionato ma più o meno la classifica è quella che rispecchierà forse il guidizzolo anche può andare meglio certo certo abbiamo visto la serie A open maschile diamo uno sguardo anche per quanto riguarda i risultati sempre della terza giornata però in questo caso ci concentriamo sulla serie B open maschile così vediamo anche quello che è accaduto e anche in questo caso prima i risultati poi diamo uno sguardo alla classifica questo è il quadro vediamo due match molto lottati finita il tiebreak Castiglione Malavicina Dossena Castelli Calepio le altre gare velocemente la vittoria del Bardolino fuori casa per 6-2 6-0 Palazzolo vince 6-2 6-3 e la vittoria anche del segno anche in questo caso fuori casa per 6-4 6-1 questo è il quadro anche in questo caso vediamo la classifica così vediamo come è aggiornata dopo quelli che sono stati appunto i risultati maturati e dunque anche in questo caso terza giornata quindi comunque detto sì qui ecco vediamo una classifica già più corta abbiamo visto comunque anche più partite ancora il tiebreak come abbiamo ipotizzato giornale precedente puntate è un campionato già più equilibrato quindi dove menzionare le persone allora è vero che è più equilibrato però diciamo che il segno una squadra neopromossa è a punteggio pieno quindi è una squadra che si è adattata subito si è adattata subito e sta dicendo già la sua adesso vedremo perché prossima nella prossima partita dei campionati c'era appunto il segno contro il Castiglione quindi già un segnale importante per l'alta classifica il malavicina con il palazzolo e mentre e quindi già vedremo degli scontri diretti per delineare appunto già una prima ovvio provvisoria perché siamo comunque all'inizio però diciamo che anche qui la classifica è un po' di ritira sull'impostazione delle squadre perfetto noi siamo anche giunti in chiusura dopo i vari sondaggi che abbiamo lanciato in questa puntata quindi io ringrazio come sempre Flavio Biali grazie Flavio grazie a te grazie anche al nostro ospite Emanuele Festi per essere stato qua nel studio di Sport Italia e grazie a voi come sempre per averci seguito ci vediamo nella prossima puntata con il magazine dedicato alla palla tamburello grazie a tutti